Gli agenti del commissariato di Licata, coordinati dal dirigente Marco Alletto in esecuzione di un ordine di custode cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato Enzo Cuttaia, licatese di 55 anni, ritenuto responsabile del reato di lesione personale. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento e dovrà scontare la pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Intanto, un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia di Licata con l'accusa di avere minacciato il vice sindaco della città, Daniele Vecchio. L'uomo si era recato in municipio per chiedere un sussidio economico e quando si è trovato di fronte l'amministratore ha iniziato ad insultarlo. Sono intervenuti i vigili urbani in servizio al municipio, ma l'indigente non ha voluto saperne di allontanarsi. Quando è arrivata la polizia, l'uomo a opposto resistenza si è scagliato contro gli agenti andando in escandescenza. Da qui la denuncia a piede libero alla procura di Agrigento. Non è la prima volta che si verificano fatti simili in municipio. Intanto, per l'ipotesi di reato, di detenzione legale di arma, i carabinieri della stazione di Licata, dopo una perquisizione domiciliare, hanno arrestato in fragranza di reato Andrea Aquirino, 53 anni, coltivatore diretto. È stato trovato in possesso, rendono noto i carabinieri della compagnia di Licata, di una pistola clandestina con matricola a brasa. Contestualmente si è proceduto al ritiro cautelare di un fucile da caccia e il relativo munizionamento regolarmente detenuto. L'uomo è stato posto, su disposizione della procura, agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Recentemente l'attività dei carabinieri è stata mirata alla ricerca di armi detenute legalmente e in molti casi, grazie alle indagini particolarmente delicate e con l'ausilio di tecnica all'avanguardia, sono stati scoperti alcuni ricatesi che nascondevano armi, soprattutto nei casolari di campagna, ben nascosti tra le intercapedini delle pareti o nei mobili. Pare che in città circolino molte armi, la cui detenzione non è autorizzata dagli organi di polizia e il contrasto al fenomeno ha dato i suoi frutti.